Per quanto concerne le opere pubbliche, quello che ormai tra pochi mesi si avvierà a conclusione è stato un quinquennio disastroso da parte del sindaco Enzo Ferrandino e della sua amministrazione comunale. Infatti, tra sperpero di danaro pubblico e lavori inutili o eseguiti con estrema approssimazione, quel poco che è stato realizzato si è rivelato un vero e proprio disastro, tanto da far convincere i più che sia meglio che questi signori si limitassero a gestire solo l'ordinario. Ed essendo che come dirigenti del PCML fondato dal compianto Domenico Savio, tutto ciò che affermiamo e qualsiasi critica muoviamo verso chi che sia, siamo abituati a dimostrarla con i fatti. Con pochi esempi dimostreremo perché l'azione amministrativa di Enzo Ferrandino, relativa alle opere pubbliche degli ultimi anni, è stata disastrosa ed inutilmente dispensiosa per le casse comunali. A partire dagli inutili lavori svolti a Piazza degli Eroi, con l'ampio incrocio e lo snodo viario ristretti e con la rotatoria pericolosamente spostata verso a via Michele Mazzella. E che dire del campetto playground realizzato in via Morgioni e che si allaga le prime gocce di pioggia e quindi diventa inutilizzabile durante le giornate di cattivo tempo. Qui per una partita di calcetto, in caso di pioggia, i ragazzi dovrebbero giocare con gli stivali, altro che scarpette di ginnastica. E vogliamo parlare del campetto realizzato presso la scuola elementare Rodari, che a chiamarlo così è un eufemismo visto le ridottissime dimensioni del terreno di gioco che lo rendono simile ad una gabbia per leoni. Un campetto inutilizzabile tanto e piccolo e sul cui terreno di gioco sintetico sono cresciuti fiori ed erbacce selvatiche. Da non credere. Un campetto di calcetto ridotto in poco tempo ad un campo di patate. Che vergogna! Una vergogna per la quale, se fossimo noi, un qualsiasi amministratore comunale di Ischia, non riusciremmo a nascondere l'imbarazzo nei confronti dei nostri concittadini. Shou, è quella che voleva apparire come un'amministrazione vicina agli schitani, giovani e meno giovani desiderosi di fare sport, per gettare fumo negli occhi come sempre, ha realizzato anche un gambetto di bocce nel parcheggio di fondo a bosso, con tanto di illuminazione. Un rettangolo di gioco su cui, udite le bocce non hanno mai rotolato e che è anche esso stato ridotto ad un vero e proprio campo di patate, grazie all'insensibilità e alla totale incapacità nella gestione degli spazi pubblici di amministratori comunali che, politicamente parlando, appaiono sempre più come dei dilettanti allo sbaraglio. Assurdo. Un'amministrazione, quella di Enzo Ferrandino, che secondo Gianluca Trani ed Amici ha fatto così bene al Paese, tanto da meritare il salto della quaglia con cui nei mesi scorsi l'ex minoranza si è fusa con la maggioranza. Cosa aggiungere? Visto la disastrosa gestione dei lavori pubblici nel comune di Ischia, anziché annunciare nuove opere, Enzo Ferrandino bene farebbe a fare ammenda dei danni che continua assieme ai suoi a creare al Paese. Limitatevi a gestire l'ordinario e smettetela di continuare ad umiliare Ischia e gli ischitani.